E oggi peraltro con l'intelligenza artificiale, dove è un secondo creare un video in cui voi fate cose che non sono vere. E non è possibile, e non lo sarà, distinguere la verità da un falso video. Oggi si riesce un po' a capire, no? Avete presente ormai i video generati da intelligenza artificiale? Hanno dei difetti, le immagini si riconoscono. Però tra un po' sarà quasi impossibile e non ci saranno bollini che tengano. Sì, i bollini aiuteranno, ma alla fine poi dopo con l'open source uno installa e fa un po' quello che gli pare.